La Toscana, nell'immaginario degli operatori turistici stranieri, è percepita come se fosse un'unica città di 3 milioni e mezzo di persone, un brand come lo sono Roma, Venezia, Firenze o Pisa. È questa la lettura dominante che esce da By Tuscany, l'evento organizzato alla Leopolda di Firenze, che mette in contatto 140 operatori toscani e 130 potenziali acquirenti provenienti da 34 paesi. Un evento giunto alla sua quinta edizione e rinnovatosi sia nel look che nel concept. La tradizionale giornata dedicata alla compravendita, inaugurata ufficialmente dall'assessore regionale al turismo Cristina Scaletti, è stata infatti preceduta da un'anteprima, Sharing Tuscany, un appuntamento durante il quale gli operatori stranieri hanno potuto mettere in luce pregi e difetti del sistema turistico toscano e della sua promozione. Quindi tutto quello che è venuto fuori da Sharing Tuscany sarà un bagaglio straordinario per poter interloquire con il mondo del turismo variamente inteso per provare a effettuare dei miglioramenti. Occhi puntati ad esempio sul turismo cinese, un turismo sempre più consapevole e curioso, cui non si può più rispondere con i tradizionali viaggi organizzati. Questi turisti mordi e fuggi o comunque i turisti dei gruppi cinese in realtà hanno una capacità di spesa molto bassa e lasciano poco al territorio. E' molto più importante lavorare sui singoli o sui piccoli gruppi che hanno una capacità di spesa maggiore e che poi in realtà non si accontentano dell'itinerario classico Roma, Firenze, Pisa, Venezia, ma scoprono altro. Scoprono, cioè il modo di vivere Toscano diventato esso stesso un brand, ancora tutto da promuovere.